Ciao! Non resistere al male? Sembra davvero qualcosa pazzo, non a posto, è sospetto. Cerchiamo di capire come questo appaia nella Bibbia, soprattutto contesto importante. Gesù vuole a noi spiegare come dobbiamo affrontare diverse leggi che troviamo. L'altro giorno ho detto che con creatività, che non fissarsi sulle significati già che sono dati, cercare di usare la nostra immaginazione, adattare il contesto in quale viviamo. E quindi Gesù adesso dice che non deviamo ripagare con male per ricevere un male. E altra cosa che vuole dire, e passa a questo, è non chiudere occhi alla sofferenza dell'altra persona. Dice che non chiudere gli occhi che qualcuno ti chiede per prestare i soldi. Quindi forse anche te per prendere questi soldi, per dare questi soldi soffri un po'. Non è piacevole forse. Perché questi due fragmenti all'inizio e in fondo unisce il testo che parla proprio di questo, non resistere al male. E questo male, usato la parola greca, ponere, significa in forma sostantiva dolore. Quindi non così tanto male, ma dolore causato da qualcuno. Quindi non che io resisto male che c'è in un'altra persona, ma io non devo resistere questo dolore che mi causa questa persona. Ma adesso cosa, perché così non proteggermi? Io penso che soprattutto questa situazione non ti permette proteggere. A Gesù di Salò dice, non cercare di resistere, ma vivere questo dolore che ti causa qualcun altro, e riprendere autonomità. Perché se questa persona riesce davvero a farmi dolore, l'unica cosa che posso io dare, altra guancia, prego, che ti sforza, dice, andare cento passi, vai ancora più, perché riguadagni tua autonomità. Ma questo dolore, sentire questo dolore, e riuscire a sopravvivere, quello può essere importante in situazioni di quale per mantenere pace, non soffrire, diciamo, no, non guardo la persona che mi chiede aiuto. È così un po' più complessa oggi spiegazione, ma spero che comunque qualcosa rimana.